In una puntata della serie, Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato che all'inizio non erano d'accordo sul nome. La Ferragni ha detto, Vittoria è stato sempre uno dei miei nomi preferiti. Fedez non era sicuro, voleva chiamarla Nirvana. Come racconta nello show, Chiara si è innamorata al primo sguardo della sua Vittoria. Ha parlato anche della possibilità di fare un terzo figlio e Fedez ha poi aggiunto, Magari il terzo lo adottiamo. Vedremo cosa succederà.